Wow, buongiorno WhyNotFamily, benvenuti in un nuovo giornale della WhyNotHouse Siamo appena svegliati e abbiamo tantissimo sonno E c'è il rossa che si è prima svegliata che sta lì e dorme ancora Vi ricordiamo che sono uscite le magliette WhyNot, Riccardo adesso la felpa perché... Ma freddo qua dentro Sì però sono uscite le magliette, le felpe stiamo organizzando anche tutto per le felpe Quindi aspettate e vedrete anche le felpe In tutto questo andiamo a trovare Francesco che non so dove sia in questo momento Riccardo vieni con me Aha Gioca a Fifa Ehi amici ora entrerò nel vlog, devo un attimo... Devo umiliare il fratello del signore, il Fisciaulo Non puoi giocare a Fifa Salve Io sono... un combattante elfico Non mi tocca Sto scaricando... sto scaricando una... Ah no Un'applicazione figa Non so qual Sto vedendo i top downloaded Anch'io vedo sempre quando non so che fare Voglio scaricare Minion Rush Buongiorno Sei pronta per questa nuova giornata? Vai a preparare Ci vediamo dopo Oggi Avremo la nostra vendetta La vostra vendemmia Ho assistito a quello che ha fatto lui Lui ride, lui ride ma non sa che cosa... Ho assistito a quello che ha fatto lui ma adesso abbiamo provato una cosa per lui Perché dobbiamo farlo divertire Si Venga al sacco Venga al sacco Venga al sacco Venga al sacco Ciao ragazzi oggi vi farò vedere come si diventa una rana pescatrice Stiamo facendo una cosa di cui ancora non ho capito la dinamica ma la stiamo facendo Tutto tutto signori Nooo Ma hai fatto poco male Non vedo, non sento e non forlo Vieni Dammi Resta ancora un po' fino a quando non sei mia So di essere un disastro servirebbe una magia Con gli aerei sopra casa mentre lasciano la scia Stanotte prendo un volo ci vediamo in California In California In California Abbiamo finito il primo rotolo di scotch Forse non terrà niente Vogliamo provare? Vogliamo fare una prova? Vogliamo fare una prova 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 7 9 9 6 7 8 9 9 9 9 9 9 7 10 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 Si casco Hai fatto un tonfo sordo Bruttissimo Non era proprio il caso Le mie chiappine Mi sta bandendo Per oggi è tutto, ci vediamo domani con un nuovo video Sono Mico Loro, io sono Mico Loro Giaolid, 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 Giaolid Chi è? Seguite MyDreamsBand su Instagram, iscrivetevi al canale, mettete like e fate un commento Sono uscite le magliette, why not? Quindi se potete comprare il merce più figo in Italia, andate sul sito Io ce l'ho il merce più figo in Italia, io ce l'ho figata E compratelo, sì Quindi trovate il link giù in descrizione, iscrivetevi a tutti i nostri canali Non perdetevi il vlog di Mad Zero che uscirà questa sera se non è già uscito Noi ci vediamo domani, ByeMyDreams è tutto Ci vediamo in California Bye Dov'è che ci vediamo? Testa ancora un po', fino a quando non sei mia So di essere un disastro, servirebbe una magia Con gli aerei sopra a casa, mentre lasciano la scia Stanotte prendo un volo, ci vediamo in California Ciao 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 Ciao